amici di radio roma sport buongiorno e buona domenica da alberto fiano bene è iniziata questa questo nuovo campionato 2015 2016 e veniamo al punto su verona roma la gara inaugurale di questa stagione nuova stagione ma purtroppo ahimè per molti tratti roma vecchia ossia che si è vista purtroppo la roma evanescente del girone di ritorno dello scorso campionato poca velocità di manovra approccio mentale alla gara sbagliato poco movimento in fase offensiva senza palla e poco finismo in quelle due o tre occasioni da gol costruite in aggiunta anche una condizione atletica ancora non ottimale poi soffermiamoci su alcuni errori grossolano quello di torosidis che sul vantaggio del gol di jankovic non chiude la diagonale e lascia scorrere il pallone poi non vogliamo far polemica arbitrale ma purtroppo iniziamo subito con una decisione arbitrale a sfavore della roma e che avrebbe potuto cambiare l'inerzia della partita al minuto 42 del primo tempo il terzino sinistro veronese su prion stende a pochi centimetri dal lato destro dell'area di rigore un lanciatissimo un lanciatissimo gecko interrompendo un'azione molto pericolosa qui doveva scattare il secondo giallo ma purtroppo l'arbitro guida lo grazia poi perché visto che abbiamo ora un vero centravanti soprattutto molto forte di testa non permettergli di sfruttare il suo colpo migliore in elevazione e fare così pochi cross a questo punto ci si ci sorge una domanda non era meglio far giocare jago falche addirittura titolare visto che nel precampionato ha sempre giocato dal primo minuto e anche con risultati più che discreti e visto anche che un ala molto abile proprio sul cross con il suo sinistro tagliato vogliamo finire con un pensiero al capitano francesco totti dopo il gol di florenzi la roma ha schiacciato il verona nella propria area di rigore alla ricerca del gol del 2 a 1 i gialloblu ovviamente hanno fatto le barricate allora ci diciamo noi ma perché non mettere dentro il capitano invece di barbo osare un po di più magari lui con una sua geniale giocata potrà far saltare il bunker gialloblu comunque nulla di trascendentale solo l'inizio ma ovviamente occorre immediatamente un cambio di rotta soprattutto per la prossima partita visto che all'olimpico scende una squadra che si chiama juventus e che quindi dopo questo pareggio un mezzo passo falso con una provinciale diventano obbligatori tre punti perché altrimenti l'inizio si fa già molto in salita un appunto al mercato garzia ieri ha detto chiaramente serve ancora un esterno sinistro e serve anche un centrale difensivo cosa che avevo detto visto che ghiomba era ancora non è non è all'altezza della situazione a mio avviso quindi operiamo in questo senso il sabatini è abile noi confidiamo nel ds che in questa settimana ci porti quel che serve per completare questo questa rosa poi in quanto alla preparazione darsi norman è un attimo professionista la parte atletica e la cura in maniera maniacale e anche molto profigua basta andare a vedere la forma del bayern monaco del 2013 2014 della stessa germania campione del mondo in brasile che al cento quindicesimo minuto della finale con l'argentina ancora correvano a mille però ovviamente l'inizio della stagione non ci può essere ancora un certo per cento di forma che noi ci auguriamo venga già al più presto da domenica per poi andare sempre su seguirsi a crescere soprattutto poi con l'avvento della champions league che inizierà a metà a settembre non non facciamo i disfattisti come al solito la roma e roma devono crescere anche in fase di equilibrio non esaltarsi troppo per una vittoria o non abbattersi per un mezzo falso è solo l'inizio e quindi fiduciosi più che mai diamo tempo e stiamo vicino alla roma sperando che subito già da domenica prossima cami ritmo e marcia perché quest'anno la squadra c'è e quindi più che mai si deve ambire al massimo traguardo ammire non vuol dire vincerlo ma vuol dire lottare fino all'ultima giornata con le concorrenti dello scudetto proprio per rendere la vita dura e fargli come si dice in gergo tra virgolette sputare sangue fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata con questo chiudo e augurano una di nuovo buona domenica a chi ci ha ascoltato e vi do appuntamento per le prossime puntate sul punto della roma qui da radio roma sport e vi ricordo anche gli altri appuntamenti di cui faccio parte con altri grandi professionisti di questo di questo sport o di questo meglio professione giornalistica su venerdì pomeriggio con su radio rda radio step radio stefano dini con roberto dei angelis stimato professionista e grande amico persona meravigliosa su questa è la roma e poi il lunedì e il venerdì mattina a partire dal da settembre con il mio amico e guglielmo d'impano e flavio marita sotti con ogni maledetta domenica e il tribunale on air dove interverranno anche personaggi molto noti del giornalismo romano sempre venerdì 28 settembre dalle 21 e 30 alle 23 e 30 ricordo che inizia un'altra grande stagione della trasmissione più seguita nella stagione 2014 2015 della tv regionale sportiva laziale romana ossia su rete oro il tribunale delle romane quindi seguiteci perché avremo tante altre novità e servizi sempre più approfonditi per voi difusi e poi ricordo anche la nuova apertura dell'agenzia di mago alberto la nuova e bella agenzia di mago alberto in via candia 141 barra b come bologna in prossimità di piazzale degli eroi direzione stadio olimpico perché da lì a 50 metri prendi la circonfianza trionfale che ti porta proprio dritto allo stadio quindi soprattutto la domenica mattina per i difusi che vogliono andare a prima di andare a vedere la partita appunto vogliono tentare la fortuna sia di roma che di lazio venite lì chi può vedere le partite nel pomeriggio ricordiamo che c'è una sala molto grande con tavoline e poltroncine con angolo ristoro con distributori automatici e due grandi maxischermi appunto per seguire al meglio le sorti e le vicende sportive delle squadre del cuore di cui ti fate ho detto tutto e mando anche un saluto alla mia amica dottoressa e specializza indizione e logopedia nonché anche ottima artista come cantante e attrice teatrale la dottoressa analisa peruzzi che ha lo studio in viale mazzini quindi questo anche lo ricordo e con questo ecco ripeto chiudo la trasmissione ho detto tutto vi saluto e vi do appuntamento per i prossimi aggiornamenti sulla roma e grazie ancora buona giornata buona domenica e chiudo con un sempre daie roma daie grazie